E Giacomo Barbato, il nuovo prefetto di Chieti, prende il posto di Antonio Corona destinato alla prefettura di Forlice Sena. Il cambio di incarico è stato approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell'interno Matteo Salvini. Barbato, nato ad Aversa nel Casertano 62 anni fa, ha maturato una significativa esperienza all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con sede principale a Reggio Calabria dove ha diretto le attività operative ed è stato componente di commissione straordinaria di diversi comuni sciolti per mafia. È stato prefetto di Belluno e commissario straordinario dei comuni di Molfetta, San Giorgio a Cremano, Latina, Grotta Ferrata e Torre del Greco. Mi hanno già sicuramente fatto un panorama e le forze dell'ordine sono come si dice sinteticamente sul pezzo, quindi voglio dire non aspettano certamente il nuovo prefetto per lavorare e in questi anni hanno lavorato bene, l'impegno è assolutamente importante e quello che ho trovato immediatamente questo rapporto personale è raro e difficile ma piacevole, riuscire a instaurare immediatamente con una persona che non conosce, anche se apparteniamo poi tutti alla grande famiglia dello Stato, quindi abbiamo una formazione professionale, c'è riuscire immediatamente ad entrare in sintonia. Io per quello che posso fare darò assolutamente tutta la mia disponibilità personale perché tanto quelle dell'ufficio, la prefettura è un'istituzione che ha più di 200 anni, certo non aspettavano il prefetto Barbato, avete 104 comuni passate dalla montagna alla collina e il mare, praticamente c'è di tutto, allora io mi chiedo, io che sono campano di origine, però ho scoperto che abbiamo in comune il regno delle due Sicilie, sono romano di adozione perché vivo da più di 30 anni ai castelli, ma come ho fatto a non venire mai in Abruzzo? Fortunatamente ci ha pensato il Ministero. Grazie a tutti.